Musica Davanti alla Cassa Natale di Michelangelo con Ginevra Dinelli, candidata della lista Io Scelgo Caprese per il ruolo di sindaco. Avete deciso all'ultimo momento di entrare in competizione, per quale motivo? Beh, era stata presentata un'unica altra lista e questo non ci sembrava un bell'atto per il paese. Avere soltanto una rappresentanza che per forza di cose esclude la possibilità di dissenso e di dialogo democratico, siamo comunque un gruppo che porta dei valori, quindi non è soltanto la reazione all'unica lista, la nostra. Abbiamo anche la voglia di portare Caprese nella direzione del futuro, motivo per il quale nella lista ci sono tantissimi, tantissimi giovani. Ci sono sicuramente delle cose da aggiustare, tanti servizi da mantenere, ma anche da impostare la direzione di Caprese per il domani. Io personalmente mi impegnerò tantissimo per la situazione della scuola, perché nell'ultimo anno abbiamo visto una situazione di degrado che ha costretto le classi a stare chiusi nell'aula, di non poter fare attività fisica, non avere spazi doni per gli intervalli, quindi questo è un punto che mi è a cuore come mamma di due bambini e per il quale mi impegnerò. L'altro è quello dell'attenzione verso il green, verso l'ambiente. Siamo tutti giovani, innamorati di quello che Caprese ha da affrire, che è l'ambiente, quindi un potenziamento del turismo. Il 14 e il 15 ci sono le elezioni, mi raccomando andate a votare in tanti, tutti ci devono andare perché è importante, il futuro si decide così.